Sono Carlo di Simone di Simest. Simest è quella realtà che insieme a Saci, all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, affiancano le aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione. Nell'ambito del corso andremo a verificare quali sono gli strumenti finanziari che Simest mette a disposizione, strumenti finanziari che si legano sia alla finanza agevolata o alla partecipazione all'equity. Sono tutte tipologie di finanziamenti e di affiancamenti che noi effettuiamo e in relazione a questo affiancamento che Simest effettua il ruolo del professionista è centrale dal momento che diventa l'interlocutore da un lato nei confronti dell'azienda e dall'altro nei confronti di Simest.